Finale 2016-2017, la Liugio affronterà Ligor, Gorgonzola, Novare, una finale straordinaria che partirà il primo maggio. Ancora una vittoria, sempre al tie-break, ancora nel recupero della Liugio, non meccanica Modena in casa di Conegliano. La squadra che aveva vinto la Supercoppa e la Coppa Italia quest'anno, seconda la Champions League. Le lacrime di Conegliano e di sorriso invece di Laura Erma perché per lei otto muri, quattro ace è la migliore score di questa sfida in un grande gruppo che è in finale. Sì, oggi la mia squadra è stata molto brava, con un arteggiamento lì e da lì se ti metti tutto arriva anche qualcosa in più, ti arrivano i punti e così piano piano troviamo il nostro gioco. È arrivata una vittoria e soprattutto è arrivata l'eliminazione di una squadra come Conegliano? Sì, oggi diciamo, vabbè, è difficile a spiegare adesso perché le emozioni mi girano in testa, però oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte e che secondo me meritiamo anche di stare in questa finale se riusciamo a vincere contro questo Conegliano e veramente sono orgogliosa del livello che abbiamo tenuto tutta la partita. Una squadra che si è trasformata nella seconda parte della stagione, un grande gruppo come dicevi e adesso una finale contro Novara anche se la bella eventuale in casa ce l'avranno loro. Sì, adesso ci concentriamo partita per partita e adesso sarà molto difficile perché comunque è sempre un finale e vabbè, adesso stasera siamo tutti felici, festeggiamo un attimo e da domani siamo concentrate al 100% perché noi vogliamo vincere questa finale. Grazie.